Noi anticipazioni nella tre giorni di Verona in arrivo dal gruppo automobilistico Molisano DR. La rassegna era dedicata al settore dell'automotive e sono stati esposti in anteprima dal gruppo Molisano alcuni modelli dei quattro brand Evo, DR, Sport Equip e Tiger. Oltre alla Evo 3, 5 e 7 i visitatori hanno potuto ammirare da vicino anche la nuova Evo 6. La DR ha anche presentato tre anteprime assolute del marchio, la DR 3.0 Executive che affiancherà l'attuale versione della 3.0, la DR 6.0 dotata di un motore turbo benzina in grado di arrivare fino a 185 cavalli e, in ultimo, è stata svelata anche la nuova DR 6.0 Hybrid Plug-in da 315 cavalli. Sport Equip, sempre del gruppo Molisano, ha presentato in anteprima le nuove Sport Equip 6 e 7, entrambe spinte da un turbo benzina 1.6. C'è stata poi la prima uscita in assoluto per Tiger, il nuovo brand del gruppo, con 3 dei 6 modelli previsti in gamma, Tiger 5, Tiger 6 e Tiger 7.